È scattato a metà concerto della Tribute Band dei Negri Amaro il controllo congiunto al Keller Platz di Questura e Vigili del Fuoco di Prato, che a poco più di due mesi da un analogo blitz hanno nuovamente chiuso il pub di Via dei Migliorati. In occasione del precedente controllo erano state mosse una serie di prescrizioni che i titolari del locale avevano rispettato, tanto che era stata data nuovamente l'autorizzazione all'apertura. Ieri però ecco questo nuovo controllo che ha portato alla chiusura bis del pub. In attesa di una comunicazione da parte della Questura con le motivazioni di questo nuovo sequestro preventivo, resta lo sconcerto delle centinaia di persone che ieri sera affollavano il locale. Stamani sull'ingresso del Keller, insieme al cartello che indicava il locale sottoposto a sequestro preventivo, c'era quello dei titolari che si scusano con la clientela per questo nuovo inconveniente, sottolineando che non si tratta di un controllo dei carabinieri del NAS o dell'ASL. Gli stessi gestori del locale hanno poi messo le foto del verbale di sequestro sulla pagina Facebook del locale, commentando amaramente quello che è accaduto stanotte. Questa è l'Italia che impedisce di lavorare, scrivono, ostacola alla libera imprenditoria, mette in pericolo posti di lavoro. La chiusura riguarda le norme in materia di sicurezza e la loro interpretazione lasciata ai pubblici ufficiali, anziché essere chiara, è uguale per tutti. Questo è il trattamento che viene assegnato a chi lavora, paga le tasse, cerca di creare lavoro e lavorare senza violare le leggi.